Durante il periodo della menopausa, oltre ai classici sintomi, possiamo trovare anche una maggiore sensibilità e una maggiore secchezza della pelle. Questo è dovuto ovviamente dal calo degli estrogeni e dalle fluttuazioni che avvengono sì in menopausa ma già nel periodo della premenopausa, che vanno ad incidere sull'epidermide e che perde la sua capacità di trattenere l'idratazione, ma incide anche a livello del derma, quindi in maniera anche più profonda. Questo perde la capacità di trattenere e di produrre collagene. Uno dei modi migliori per intervenire sulla sensibilità e la secchezza della pelle durante il periodo della menopausa è sicuramente seguire un'ottima beauty routine. Ti consiglio di applicare i cosmetici che siano forti idratanti, quindi che abbiano come tipi principali alcune tipologie di vitamine o che abbiano all'interno una buona dose di acido ialuronico. Uno dei modi principali tramite l'alimentazione è comunque sempre un'ottima idratazione, che è ideale per gli organi ma altrettanto per la pelle. Una cosa fondamentale per quanto riguarda i cosmetici, cerca di fare sempre attenzione al detergente che decidi di usare. Scegli dei detergenti che siano magari più oleosi e che siano meno schiumosi e di conseguenza meno aggressivi, per evitare di alterare ancora di più il fimetro lipidico. Quindi i consigli principali riguarda di bere molto, di scegliere un cosmetico adatto, perché no magari l'integrazione di alcune vitamine, come possa essere magari la vitamina C, chiedendo sempre il consiglio al tuo medico.